di nuovo saluto a voi che ci seguite su formobiles.info oggi parliamo della recensione della scheda video asus gtx 980 poseidon di cosa si parla di una scheda video ibrida come raffreddamento è già pronta per essere raffreddata sia ad aria che eventualmente già predisposta per ricevere il liquido di raffreddamento da un impianto pre esistente o che voi costruite su questa quindi è costruita con un water block e ve lo mostrerò alla fine della recensione un water block e poi sopra c'è un raffreddamento che con le pipes che arrivano direttamente dal dalla gpu si parla di un prodotto che appunto su cui potete disattivare le ventole staccando l'alimentazione si parla di un prodotto che ho trovato molto silenzioso e con un tdp davvero basso un poco calore prodotto anche durante i benchmark lo vedrete durante la recensione siamo arrivati a temperature basse quindi veramente veramente bene un esempio sciocco giocando a battlefield oggi ci sono 23 gradi in camera con la mia r92 90x di asus arriva a 70 gradi sempre con impostazioni native di sistema 68 66 70 dipende con l'aere no con la gtx 980 di asus arrivavo sui 50 51 gradi però con 28 gradi in camera quindi questa è una cosa da considerare è silenziosa anche se raffreddata ad aria quindi una cosa piacevole e se la raffreddata in modo ibido quindi sia liquido che aria probabilmente otterrete delle ottime temperature perché i consumi sono effettivamente il calore prodotto è effettivamente più basso di altre schede video a livello di potenza erogata ma è inutile dirvi che mi sono trovato bene e l'ho utilizzata come se fosse la mia scheda come se me l'avessero regalata l'ho tenuta quasi un mese sul mio pc l'ho utilizzata nei montaggi dei video di formobiles l'ho utilizzata per giocare l'ho utilizzata per i benchmark diciamo che ci ho fatto tutto quello che faccio abitualmente come l'ha fatto l'ha fatto molto bene l'ha fatto su un pc con le specifiche che trovate in descrizione al video quindi vi invito sempre a leggere la recensione scritta che cerco di non fare troppo lunga perché so che poi con tutti i tecnicismi metà delle persone non la leggono e su un monitor in full hd quindi non l'abbiamo proprio tirata come un violino ma non l'abbiamo neanche fatta rilassare trovate tutto nella recensione che segue e vi invito a leggere quello che trovate sotto cominciamo veniamo quindi alla seconda parte di questa recensione dove vi mostro un secondo quali sono le specifiche dell'oggetto in questione ovviamente abbiamo visto che è un prodotto di fascia molto molto alta parliamo di un prezzo che oscilla intorno ai 650 euro per questa scheda video di asus è realizzata con una cura maniacale lo abbiamo visto in unboxing è fatta proprio bene la scheda video in fase finale poi ve lo farò vedere questo è il software che gestisce la scheda video poi sappiamo che se in un prodotto targato invidia è equipaggiato con i driver in dotazione a via quindi tutto il contro il panel e la geforce experience che ormai più o meno tutti conosciamo e con cui è molto facile immedesimarsi qui abbiamo il pannello di controllo della scheda video che ha moltissime impostazioni possiamo andare ad espandere le cose che vedete che vedete che vogliamo vedere vedete possiamo andare ad aumentare per esempio c'è il power target c'è il temp target che sarebbe la temperatura che vogliamo tenere come riferimento massimo poi abbiamo per esempio il voltaggio no tutte queste informazioni possiamo applicarle e poi vedete che qui abbiamo il nostro temp target che eccolo qui è 79 gradi cioè la scheda video si tara per non far superare quella temperatura poi ovviamente noi possiamo andare ad modificare queste specifiche con questo con questo cursore possiamo salvare dei profili quindi se andiamo a fare un piccolo overclock tramite il pannellino qui di controllo oppure andiamo a crearci con la gestione della velocità della ventola vedete possiamo creare la nostra curva di raffreddamento preferita no se per esempio siamo l'inverno e non vogliamo che la scheda video faccia molto rumore possiamo tenerla fresca cioè tenerla bassa di potenza fino per esempio a 70 gradi possiamo sempre ripristinare l'impostazione per definita che è memorizzata nel sistema vedete che tra l'altro abbiamo il solito sistema di asus di gpu tweak mi scuso che è così anche sulla versione radeon perché io ho una scheda video personalmente o una scheda video radeon quindi non invidia e utilizza lo stesso a interfaccia vedete che abbiamo questa sequenza di dati a nostra disposizione possiamo ovviamente andare a modificare aggiungendo e cambiando le impostazioni che avete modo di vedere in questo momento cose interessanti di questo software beh è veramente facile da usare anche se siete proprio alle prime armi è facile da usare difficilmente ovviamente chi va a comprare una 980 è un utente così casual nel senso come vi dicevo questa è l'interfaccia video volevo farvi vedere approfittare un secondo del fatto che abbiamo un po il video sottomano per tediarvi a parte con i dati tecnici sensore di temperatura per farvi partire questo software di benchmark che è interessante perché stressa abbastanza la grafica e fa scaldare abbastanza la scheda video è interessante perché così vediamo un attimino la variazione delle temperature all'interno della della nostra scheda vi dico subito che rispetto alla radeon scalda molto di meno io l'ho usata sempre raffreddata d'aria perché utilizzandola sul mio computer personale e questa è una mia scelta voluta per testare questa scheda perché ovviamente usando sul mio pc personale dove ogni tanto quando poco tempo gioco anche o modo di vedere quali sono poi le performance nell'utilizzo quotidiano devo dire che si comporta benissimo cioè inutile dire che questo monitor che vedete in full hd e le temperature sono più basse sono molto più basse di quelle che noi vediamo siamo soliti vedere per esempio sulla mia radeon r92 90 x il raffreddamento molto efficiente ed è sviluppato tramite una come si può dire una ramificazione di pipe dalla dal processore grafico e la l'area raffreddante è veramente molto molto estesa quindi le ventole difficilmente hanno bisogno di salire molto di potenza per gestire le temperature senza problemi io per esempio gioco a bad company 2 sulla radio giocavo a parità di temperatura in camera sulla settantina di gradi qui ci giocavo a 52 53 gradi quindi per farvi capire anche qual è l'efficienza in più di questo di questo tipo di prodotto vedete che qui siamo sui 65 frame forse voi fate fatica a vederlo perché indicato qui sotto dove vedete il mio ditone in questo momento siamo a 66 gradi il benchmark continua vedete 61 59 gradi fa speed viene indicata al 40 per cento vediamo se è una definizione corretta comunque vi dico la scheda video fino al 50 per cento di ventilazione è davvero davvero silenziosa sia in effetti al 40 per cento è davvero davvero silenziosa qui non è fastidiosa non è fastidiosa e hanno utilizzato un buon set di ventole che fino al 50 per cento ha una frequenza molto gradevole sull'esperienza liquido purtroppo non possiamo darvi un parere perché ovviamente richiede un tipo di test molto più lungo e complesso ma a livello di esperienza d'uso se poi vorrei voi vorrete integrarlo sicuramente avrete dei benefici è innegabile e il water block di serie lo vedremo adesso in chiusura è davvero davvero interessante non vi faccio vedere giochi non ha senso mi ho fatto vedere il benchmark giusto così tanto per e per poter un attimo assorbire le mie opinioni durante durante il video veniamo alle conclusioni finali eccoci alla fine della recensione della gtx 980 poseidon di asus andiamo a vedere un attimo l'hardware quello che volevo mostrarvi prima del prezzo vedete che abbiamo a parte la base della scheda con la relativa cover di protezione con l'indicazione di asus qui abbiamo le porte per il collegamenti per eventualmente unire questa scheda video ad altre quindi fare il cosiddetto l'utilizzo di più schede video vedete che tipo di ventole vengono utilizzate che sono se non sbaglio da 8 mm l'una con un impianto di raffreddamento veramente grande sia per quanto riguarda l'aria e avete modo di vederlo qui avete modo di intravedere lo spessore attraverso i tubi vedete che ci sono trade pipe da questo lato e da questo lato invece non si vedono ma ci sono sono sotto corono sotto e vanno a portare il calore fino agli estremi che sono anche qui dentro e ve lo faccio vedere con la luce led della telecamera vedete il radiatore per il raffreddamento aria è veramente veramente grande sotto adesso togliamo la luce e sotto abbiamo questa parte che è relativa al water block dove noi possiamo far arrivare l'acqua il liquido di raffreddamento tramite questi tubicini e andare a raffreddare la nostra scheda con appunto il liquido si può anche decidere di raffreddare liquido e aria quindi un sistema ibrido per avere temperature ovviamente ridicole vi dico subito che noi l'abbiamo testata solo ad aria come vi ho detto prima e le ventole sono davvero silenziose anche con quando abbiamo fatto i test di aida e in recensione sul sito troverete tutta quanta la parte relativa ai benchmark con le temperature e giri ventola non abbiamo mai superato il 50 per cento della potenza delle ventole stabilizzando la temperatura senza per clock ovviamente a 70 74 gradi a seconda delle situazioni mi pare che 74 gradi sia la punta massima che abbiamo toccato vedete anche che tutto sommato è un ottimo risultato questo è complice l'architettura che utilizza invidia per questi chipset perché sono meno energivoli per esempio delle controparti ati e quindi producono meno calore non tdp più basso vedete sempre l'alimentazione a 8 l'alimentazione a 8 punti a 8 scusate pin e volevo farvi vedere la possibilità ovviamente di andare a staccare le ventole con il connettore che c'è qui qualora decidiate di utilizzare solamente raffreddamento liquido le uscite le abbiamo viste le abbiamo viste anche in fase di unboxing display port hdmi e display port un'altra volta sopra la dv id veniamo un attimo alle conclusioni finali viene questa scheda video intorno ai 650 euro è ovviamente un prodotto per pochi un prodotto per persone che sanno cosa stanno comprando è un ottimo prodotto io mi sono trovato davvero benissimo soprattutto perché anche senza sbattersi a mettere il liquido è una scheda video davvero silenziosa veramente ben progettata e soprattutto ben costruita complimenti ad asus anche per il supporto che ha messo con tutti quanti tour che sono a vostra disposizione devo dire una cosa probabilmente non è adesso il momento di acquistare questa scheda video visto un pochino il prezzo così elevato magari aspettando un po di tempo potete vedere di acquistarla con più nonchalance ovviamente se siete degli amanti di questo tipo di soluzioni soprattutto per il raffreddamento del liquido probabilmente questo prodotto già lo conoscete di nuovo un saluto da formobiles.info grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti